Devo accendere le luci? Si, ho visto che sei un po' nero Che fai, è razzista? È razzista? No Perché no? Perché è una merda essere razzista Come perché no? Bravo, bella risposta Marco Hai vinto un uovo di cacca Ehi Google, accendi la luce! Ma questo è scemo Ho acceso la luce, Gesù Non mi sente Per far la vita meno amara Aspetta, che c'è arrivata una key Pogli il pre-light, però Si, stavo facendo un attimo Mi aspettavo, mi sono comprato una chitarra Ma non l'ha fatto nessuno Ora ti si vede un po' il pene peloso lì Ma che problema c'è? Ma niente Mi stavo pulendo gli occhiali, ragazzi Qualcuno Mi fa vedere che chiave c'è arrivata È arrivata la notifica della mail Ho aperto Gmail ma non c'è quella mail Fammi vedere Fammi vedere Guardate che controllo, Moro Cosa? Sono un boomer, guardo come boom E boom 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 La bomba La bimba Bamba Bambam Bambam Non leggo, Moro La bamba La bimba Bambam 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 Cicabom C'è una S Che cazzo stai dicendo Una X Può essere Poi c'è scritto Parmalat Può essere Una S e una X C'è scritto Parmalat Che non c'è nessuno delle due lettere Amici Che bello Allora Oggi Che bello cosa Oggi facciamo Hunt Perché Ieri Lunedì Che era martedì Mattina Clarus Grazie mille Oggi leggendo un libro Ho scoperto che esiste Cultura Clobis Una cultura preistorica Nativa Americana Detto questo torno in pasta Buonasera Grazie Clarus Grazie Nuzeltaft Che non si vedeva Un po' Grazie Team 17 Su un dungeon crawler Ma non c'è la mail È 17 Moro Sette E siccome Hunt Questa volta Moro dovrebbe funzionare Abbiamo deciso che Che fai Lezzar Le acumbe con gli occhi Che fa Non so Hai fatto Una magia Oscura E invece Facciamo Hunt No? Eh Sì Ottimo Dai Mi sposto Nell'altra finestra Ma io spendo un sacco di soldi Che c'ho 15.000 euro Nel conto in banca di Rainbow Six Showdown qui Aspettate un attimo che li vedete bloccati Perché devo aprire un showdown E non trovo le situazioni Allora io oggi mi voglio prendere Il label Perché ce l'ho Io mi voglio Provare la bomba a carta Come si chiama? L'estate Zidane L'estate sta finendo Cazzo ce ne va Meglio così Oh io sono pronto Vi invito Gioco così oggi Posso giocare così Mentre dondolo solo con una mano? Non credo che tu ce la faccia Come Aleflame Che è successo Ale? Che è successo? Ale Clicca sto Usante di merda Porca miseria eh Ma perché eri stanco Sei passato lì per caso Ale ti sei messo a dormire Nel letto dell'ospedale Spero di sì Cazzo è il mio zindolò Sì C'è che manca il Marco Eccomi qua Ora mi devo addrizzare Ho spaccato la gamba Mi sono operato oggi Ma te sei un imbecille allora Aleflame Ma ti pare? Porca miseria È una donna Sempre è stata una signorina E sempre sbagliata Te sei un imbecille Il concetto non cambia Il concetto non cambia Perché mi scordo sempre Già l'altra volta ce l'aveva detto Ho messo del sesso Ho messo nella Perché mi sembra un nome da maschietto? È Aleflame È un nome da maschietto Eh no Ale è anche Alessandra Perché mi viene in mente un maschietto? Ma è Ale con due L Quindi è maschio Ma che vuol dire? Metti pronto Metti pronto Metti pronto Aspetta che c'ho le cagate Chi è? Fabio Fammi mettere Allora io l'ho provato oggi pomeriggio E non mi scattava questo gioco Ho provato a giocarci Con due webcam aperte su Chrome E OBS aperto quindi Ragazzi sono bruttina Obiettivamente Mary Rowland Ma Moro Eh ma fai cagare Eh ma non si dice Scusami Guarda che Questo mondo è pieno di superficialità Ma di Moro visto così Fa stifo Ma che avesse una bandana Di color carne in testa Invece era proprio la frutta Non so la bandana Ah ma che dici Guarda Sembra che c'è Se ti ho dato del maschietto in questi mesi Ti chiedo scusa Che mi dimentico sempre Aleffle intanto il sesso Non ha importanza ragazzi In NBA hanno fatto la versione Black Mamba Posso capire Che sia un modo per onorarlo come leggenda Ma a me un po' dispiace Che hanno fatto questa cosa Anche per guadagnare di più Beh certamente Ovviamente C'è una cosa bella da avere Anche per collezione Perché c'è tutta la copertina giallo-viola Con lui Tutto C'è illuminato Però 100 euro 100 euro sono tantini Almeno su Amazon costava 100 euro Cos'è sta tromba qui? Cos'è questo trombino? Una pistola con la tromba? Fai E spari? May non sei sub? Perché? Cazzare Marco Era questo Finito Era questo Lo sai che nel termo best Quello della 12 ore Mi hanno Ha detto Ma com'è che Marco Non ha partecipato alla canzone Perché avete cantato Tu e gatto Effettivamente Io ero zitto Ma perché chissà Cosa stavo facendo Su quella barca Ero concentrato Su mille altre cose Grazie Luca Marco è chiaramente La pistola da bocca Io proprio E mica la pistola di prima Sono io proprio La pistola da bocca Ma è buio ragazzi Come va Ma come primo Alla fine Purtroppo Giro Giro No ben user Taffa Verranno chiesti i permessi Alla famiglia Comunque Sono abbastanza sicuro Ma magari danno anche Tutto l'eccedente Magari chissai Anche perché Coppia aveva varie associazioni Coppia aveva varie associazioni Pedro Grazie mille Grazie Pedro Grazie mille Pedro Si è molto gentile Complimenti per il tuo arrivo alla Roma Morelli Dove mandarti qua Andiamo Potrebbero dare i 30 euro che costa in più in beneficenza Può essere Secondo me guarda che può essere Può essere che vadano per qualche situazione Ma non mi pare ci sia stata nessuna notizia di niente Credo che non abbia tu Non hai mai letto una notizia su NBA Credo Quindi come fai sapere Ma nei siti di videogiochi Il videogioco Ma fai quanti siti di videogiochi Mai fanno più che cosplay Ma no avrebbero Indiscrezioni di inutili Sarebbe Arrivata ovunque la notizia Mamma del Carmelo No faccio una pausa No faccio uno stronzo Faccio esplodere ragazzi Ah ma non era quello esplosivo Era solo stronzo Ma forse potrebbe buttare tutto Vabbè Usiamo anche la batteria Che ne pensate Ho sparato a qualcuno ragazzi E' più buono Colpito Liez Tanto Liez era appicchiavo Quando arriverà il pc a Moro Sempre quello problema Ho comprato una chitarra Grazie Tai Grazie Tai Deve prima arrivare il pc a Moro E poi arriverà Sto diventando un meme C'è gentissima ragazzi Come la figura di Moro Adesso è diventato Cosa ho detto? Tra l'altro Gente c'è gente No la vecchia schifa Aia Sono strainappi questa sera E basta No ragazzi Se lo vuoi Gian Gianni Quanto offri per il mio pc Che non ci fa più girare ormai niente Ma ragazzi ma non ho capito un cazzo Eh Moro io mi son curato adesso E mi è arrivato un cane addosso appena ho finito Era un cane Mi hanno tirato una bomba Esplosa ma sono arrivati gli insetti Mi sono fecondato io Dov'è che sono? Ah lì uno Ragazzi aspettate Io dovete aspettare un attimo Sono una situazione incredibile Ho colpito Ma là c'è l'altra squadra anche Ma ce ne sono due L'altra squadra l'altra Non arrivo è dominante Dai Prego Marco Occio Gli Ezra Fai piano Che fucile hai Di pelle Ma non l'ho ucciso Ma non l'ho fatto un cacchio Però forza C'è il fucile di gomma Colpita di nuovo Ma era un altro però Era una bomba Vestia se me la tira Ah gli ammelle a ciappet Le sangue di Marco Ostia che botta Che è stato tirato Ma veramente toglievano quattro A questo punto Questi fucili L'ho presi sempre Quello lì l'ho preso tutti i colpi Zara è ancora in vita Lì è Zara qui E non l'hai preso Sei curata anche lei No non l'ho preso Sì sì l'hai preso No hai fatto hitmark Ma mi ha dato hitmark L'ha dato a noi A me no No ma l'hai preso L'ho preso anche io Tra l'altro con la pistola Che si è subito curata Mi so Sì lo streamer l'ha messo vecchio stasera Menti di menti ragazzi Che poi tra l'altro Lui mette lo streamer Prima che partiamo con la live Non sapendo che noi Per partire live Settiamo sia lo streamer Che A volte glielo cancelliamo Senza volerlo Stai all'occhio eh Quindi si stanno sperando Qualcuno sta suonando la batteria No sono No è una granata finta questa Deezer prova a vedere se non ci riesce Adesso mai Provare Ma dove cazzo erano le scalle E' a destra qua Ma Thomas grazie mille Ma dove sono? Sinistra Non sono scalle Ma se ti fai piccirillo piccirillo A sinistra qua Eh ci provo Ah volevo fare Dove stai andando Se lo smetti con questo girovagare Che lo sto vomitando Ah ma qua sono Ah ma volevi salire? Sì che non trovo le scalle Occhio eh Ti avranno sentito sicuro 100% No secondo me no Sono ignari Domani fanno un nintendo Direct mini Eh non lo faremo Ragazzi Stanno sparati E giù giù Gli ezzer giù Eccolo Oh è andato giù quello lì A destra lì Quasi Bello sto fucile dietro E no la spina No ero dietro Vabbè Invece non eri dietro Nelzar Meno male Perché io mi son rotto Che questo buio Non vedo niente io Veramente si eh Ma non è un direct mini Ma per le terze parti No ma non lo faremo infatti Sicuramente Ormai non fa un direct serio Da più di un anno Lo intendo Vabbè E non è una cosa direzione Mi sa che lo ha fatto qualcuno carino No no Un suo direct nintendo ufficiale Non lo fa da più di un anno Sì ma sicuro Dean Però oh Purtroppo ho mandato di sfiga Io cavo l'arma di gomma Perché l'ho preso veramente Con tutti i colpi Forse uno L'ho messato Che prendi le armi di gomma E io ho preso Quelle No Stattiamo alle 20 21 E poi riprendiamo alle 21 Allora Lei c'è il romero Cambiamolo subito Sì facciamo Facciamo un pausetta Dopo le 21 Ragazzi Allora Recluta cazziattone Anzi Mi prendo Id Ok mi prendo lo spectre Sono bellissima Sono Mabbina o Malone Non o Malone Senso il film Perché lampeggiate? Ragazzi Che mi va Fastidissimo Agio No Arcadia Probabilmente Una delle conferenze Che sto aspettando Di più Quella di stasera Beh Che un fanboy In realtà In realtà Sinceramente a me Del prezzo Non me ne frega niente Perché tanto la prendo a prescindere Quindi Beh Cosa 300 euro No vabbè Però se costa 500 La prendo lo stesso Beh Quanto cazzo vuoi che costa Scusa Moro per favore No 400 Aspetta sto Se metti dentro lo 500 Che quella digitale La prendo lo stesso Non me ne frega niente Sono proprio curioso Di vedere i giochi Come la presenta La conferenza durerà 40 minuti Infatti in 40 minuti Non è che faranno Vedere così tanto Oddio Vabbè Il prezzo Ci vuole Un minuto Dirlo Si vocifra sempre Quale Final Fantasy 16 Perché c'è anche Il capo di Square Enix Ha detto Guardate la conferenza Di stasera Quindi può essere O progettati Può essere progettati Cos'era Sai che mi sono scordato Progettati era Quel gioco In esclusiva PlayStation Proprio fatto apposta Per PlayStation 5 C'era Un drago Sembrava Però non si era visto nulla No qualcosina Si era visto Poca roca Per me è una bomba La tirano Anche secondo me Però come al solito Vado con la mia filosofia Secondo me stasera Non fanno vedere niente Quella senza lettura No no ma io ci credo Che non fanno vedere I leak Sì i leak dei pezzi Sono da mesi Ormai quelli 500 e 400 Però bisogna vedere Se poi effettivamente Lo fanno Io spero Mi diano Demon's Souls All'uscita Se fanno anche Demon's Souls All'uscita E' tanta roba Ma il suo morale Se a me non ne frega Eh si Perché comunque L'altro è piaciuto Però Fanno Demon's Souls All'uscita Sono cundendo No la data Te la dicono Anzi tra l'altro Ci sono visto Delle immagini Che hanno già Ragazzi Deve usciare a novembre Cioè Se non la data È assurdo Molti negozi Della Francia Hanno messo Che la Playstation Sera prenotabile Da oggi Ma si Ma vedrai Che diranno qualcosa Su quello Sicuramente E tra l'altro Potrebbe essere Anche effettivamente Prenotabile Già da oggi Dopo la conferenza Diranno È prenotabile Adesso Non l'ho letto No Non ho letto Quella cosa Quindi in caso Se volete Il gioco del catalogo Non lo sapevo Beh Potrebbe essere carina Come cosa Ma le demo Sono sempre Un'ottima roba Che belle mani Ah quella La cosa delle demo È stata abbandonata Che È una cosa Che soprattutto Oggi Serve Perché Uno magari Si prova La demo Per poi Vedere se Gli vogliono Comprare il gioco Poi chiaramente Non è conveniente Per le aziende Perché uno magari Si compra il gioco E si incula Come si chiama il corso? Il corso che c'è sulla testa Ti potevi giocare A Puoi giocare A qualunque gioco Dello store Puoi fare una demo Come Grazie Ora ti mando Grazie Ora ti mando Grazie Mi sa che ho colpito Attraverso il legno E' andato giù Ci hanno sparato Porca puttana Ma di già Ragazzi Copritevi Fa caldo C'è il contrario Jezar vieni via Che ti prendano Attraverso il legno C'è lo spettere Ovviamente Figure Devo raccaricare L'avete visti? Sì No io no Ma mi fido di voi Aspetta Visti So dove so Ah mi ha sparato Dall'aggiù in fondo Addirittura Aspettate Non lo vedo C'è una vecchia Bacucca Eccolo Colpito E' qui E' dietro questo masso qua C'è uno anche laggiù Però che io non lo vedo Però lui mi vede Cazzo Ti ha sparato Una bomba Eh c'era qualcuno Qui vicino Di quello che pensavo L'ho colpito Ma non l'ho atterrato Dov'è? E' lì Dov'è Marco Praticamente Nell'orecchio proprio Mi ha infilato il fucile dentro Che paura Jezar O moro Chi è questo? Riesci? Orca miseria c'è Parca Parca Vedi se riesco Ah ma c'ha Ah ma quello a ripetizione Che c'è lei questo? E' lo spark Ah buono quello Eh mi ha sparato Credo anche lui col pompa Sai? Oppure mi ha preso in testa Semplicemente La vecchia Stai attento Mi ha sparato Dall'altra parte In teoria Marco vieni dentro qua Mi eri buttato giù Marco sei caduto No no ma istantaneamente Non ho avuto tempo Di tirarmi su L'ho colpito Ma E' morto Non ho neanche avuto il tempo Di vedere la mia vita Rifarsi Tiragli una Aspetta aspetta Ti tiro su adesso Eh no Eh vaffa Ma vedo male Ma stiamo incontrando Tutti all'ora Pena iniziamo Allora Ok Tu è addirittura Sto sparando tra di loro Vai vai Eh hai preso la grata Mi sa Hai detto rumore di ferro Lo so a te Che quello lì era Quello che è touch cheese Avrò due di Appena mi Mi sparano Muoio di nuovo Ho un'attacca sola Erano in due Non vedo una fama Ho un'attacca sola Eccolo Eh dove c'è il mio cadavere Non so se Arriva il colpo da qua Ho colpito Ma figurati Se gli faccio danno Da qua Ho colpito Non l'ho colpito Vabbè è normale Marco sei morto Eh ma c'è un'attacca Però l'ho preso due volte Un po' di vita Io lo dovrei aver tolto Non a quello Ovviamente Non a l'altro L'altro a sinistra Ho sparato Eh ma se caldi due volte Sei praticamente Morto Arriva da sinistra Tira roba Ma qualcuno è morto E mi hanno colpito E' tornata la vecchia O quella di prima Che non hai ucciso Sta arrivando qualcuno Amoro Però non ora Basta Qua a destra Qua a destra Quanti sono? Oh è il memoria Aia Ma erano troppi questi Che palla ragazzi Mi ha sbombardato Mi ha Che balls Ora sono bestie Mi ha sparato nell'orecchio Stiamo incontrando tutti Allo spawn Ok voce Voci Eh? Eh? Eh non so Dimmi Vero e Marco Vediamo un po' Sentiamo Cosa ha da dire Final Fantasy 16 Uscirà il lancio Della console Eeeh Alla meglio Ho fatto lo salto Grazie Mark riecco Mi avevo disattivato Forse la resa Automatica I'm back Grazie bella Grazie mille Allora fatemi prendere Voi in chat Cosa vi aspettate Da questa conference Di Sony Reclutiamo Intanto Uno con la bomba Lines Bomba adesiva Bomba frammentazione Antidoto Prendiamo una Bomba infernale Jim Henderson Va bene Lo spectre Non so se Tenerti lo spectre O cambiarlo Sono bellissimo I ragazzi No ragazzi Oggi sono sempre Inghiozzo Ma perché? Il teaser di God of War Se No secondo me Stasera non fanno Vedere cose nuove Oggi fanno vedere cose Giochi all'anno Ma gli ederi sono Palesemente un Jedi Magari qualcosa di nuovo Sono un Jedi O l'accappatoio Qualcosa di nuovo Magari lo fanno vedere Però non robe incredibili Faranno vedere solo roba che esce al lancio La dashboard della PS5 Beh ma potrebbe essere In effetti In effetti Non l'ho mai fatto vedere Non che Non penso Fregui un cazzo Secondo me diranno Il prezzo di Miles Morales E i suoi fantastici amici No Il prezzo no Secondo me sì Un gioco al lancio C'è per forza Secondo me è quello Il prezzo del gioco No Diranno Ripadiranno Ma scusa Una volta che dici Ma non hanno mai detto In una conferenza Il prezzo Dei giochi Ma usciranno Magari non te lo dicono Durante la conferenza Della conferenza Non hanno mai detto I prezzi dei giochi Nella conferenza Ma magari non te lo dicono lì Però finisce la conferenza E c'è il prezzo del gioco Vabbè che cazzo me ne frega Allora Cioè nel senso E dopo la conferenza Quello non è la conferenza Vabbè chi se ne frega Mi interessa No hanno detto che costerà Il prezzo budget Il gioco La cosa che mi interessa a me È quella Tra 40 Allora lì te lo dice Amazon Te lo dice la conferenza La conferenza me la metto Dentro il culo Infatti Io i giochi li devo comprare E voglio usare i prezzi Poi mi possono far vedere Anche lo schermo della Playstation I prezzi sono Si sanno già A parte Miles Morales Che comunque si sa già Anche quello I prezzi sono sempre gli stessi Ma erano ufficiali Quelli lì Che erano usciti I prezzi dei giochi Sono sempre quelli Sono 70 Pranne Spider-Man Che hanno detto Che sarà un prezzo budget Ma il giorno Vaffangulo Che bello Era giorno anche prima In realtà Però che bello il giorno Ragazzi Voglio vivere Lo show di giorno La cosa in VR No Oggi VR Ha già fatto la conferenza VR La settimana Il VR Il VR di PS4 Sarà compatibile Anche con PS5 Immagino Si ma non è la conferenza Per il VR Ma non faranno uscire Un VR nuovo Magari tra due anni È presto adesso Sì Vero quello wireless Eh quello lì sarebbe Una tanta tanta roba Quello lì lo prenderei E se poi mantengono le promesse Dei 4k a 120 frame Allora prendere wireless Sarebbe una figata Assurda Loro inizia ad avere senso Anche il VR La 2 no No Parano a sud-est Sì Quanti enter Anch'io Comunque ha prenoto Sabaton Stanno sparando qua dritti Sono già qua da di fianco Incredibile oggi No è troppa gente Oh ma che Oh prendo l'indirizzo Mara Eh se posso Ah comunque ve lo dico già Al diciamo 90% Domani non farò la live Che stronzo Ligia però Dove evitare Questo inframme Perché sarebbe comunque Una live che durerà Tre ore Visto che dobbiamo vedere Tutte e tre le puntate Quindi Indigniamoci Da Giovedì prossimo Tranquillamente Se va tutto bene Giovedì prossimo Ci guardiamo Le altre tre puntate Voglio anche io Vedere le puntate Di James May Perché sono Vedete come va avanti Andiamo Eh sì No è Bando con cyberpunk Lo vedo Secondo me Sapete che A sud Ragazzi Andiamo dove sono gli spari Perché stanno facendo il ragno Lo vedo più per microsoft Un bundle Maia merda Eh Io c'ho la Io c'ho la Bayonetta Devo fare con la pistola Ah beh Faccio 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 Grazie Ci sarà il bundle Sarà con microsoft Con il cyberpunk Perché l'hanno presentato loro Hanno fatto tutto loro Quindi hanno una partnership Con microsoft E' un peccato più grande Perché già avete saltato Settimana scorsa Per la Eh Oddio Se sto Decidivamente la faccio No ma aspetta Non è ancora sicurissimo Che la salto E' più probabile Che la salto Che no Però Ma non è un altro No aspetta Ma nel caso posso fare Anche tranquillamente Due puntate Una puntata domani Giusto per Moro Non posso Corca Vediamo domani Ma anche io vorrei Vederle Sono curioso Ma infatti Magari facciamo Una puntata sola Facciamo un'oretta Ma perché ho due munizioni Di cose diverse Siamo domani Non so neanche come si cambiano I tipi di munizioni Stanno 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 sparando A mattoni S Allora Stanno sparando Però dove La zona è nera Quindi non sono Al Al boss No non è qua E' il secondo Che qua Secondo pezzo Non c'è molto spazio No no è qua E qua invece E' messo illuminato Il bianco Ma si infatti Domani salta Stiamo quasi pensando Di andare avanti Con avengers Io domani Però non Non sono sicuro Di riuscire Non sono Non lo so Non lo so Non dico niente Che vediamo Magari ce la faccia Fanno eh E' Grazie 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 Quello di Scary Movie, si. Era pifo. Tra l'altro in italiano ero doppiato da Pirlo di Segnio. Entra. Entra. Dove vai? Dove? Ah, devo entrare io? E Marco, devi... Vaffanculo, devi entrare. Ho sparato. Il live di Sony sarà qua. Passavolo in diretto. No, era Doofy, mi sa, quello di Scary Movie. Chi è che spara? No, no, no. Sto ricaricando. Ho capito, tu o non tu, Marco? Io no. Sono qui fuori. Ho guardato prima, io. L'ho colpito. Ma uccidiamo il ragno. Ma che uccidiamo il ragno? Sono qui fuori, Marco. A destra, Liezar, è qui. Sono esploso anche Liezar. Liezar, tu eri dietro. Ah, era il candelone quello di... Eh, ho capito, ma ero fuori, lontano. Eh, ma questo qui ti ribalta la casa. Eri fuori le mie palle. Che sfiga, porca miseria. Ha fatto doppia con il bombardone. Cosa fai con questo, Marco? Eccolo lì sotto. L'ho colpito. E' buttato giù? No. Non credo. Sono in sette, Marco. Stai attento. Non hai vita. Ah, stavano sparando all'altro boss che... Che è qua di fianco. Qua di fianco. Che cacchio. Mi ha sparato un altro, ragazzi, mi sa. Mi ha sparato un altro, per forza. Eh, sì, dovrebbe essere sull'account PlayStation la live. Caso vi diciamo dopo, comunque. Mi raccomando, perché adesso finiamo la live alle 21. Faremo pausa un'oretta e poi alle... Intorno alle 21.45, così, 21.40, 21.45, partiamo con la live, chiacchieriamo, insomma. Eh... Che schifo, però, stasera. Un po', un po', sì. Per reclutare un altro cazziatore, va là. Mi prendo... Lo Springfield c'è da caccare, è vero, un po'. Fammi prendere il... Vetterly. Lui. Vetterly. Qui, perché non ce ne faccio un cazzo. Io la Bomb... No, l'ho detto che volevo provare la Bomb Lens, lo faccio. La Bomb Lens, lo faccio. La Bomb Lens, lo passi. Bravo. Antidoto. Mi ficco. Questo e questo. Ho sbagliato. Massimo. Viri, viri. Voodie Allen. Mamma mia. Io l'ultimo fatto della Lurisia, ma cerco di non bello. Io l'ultimo fatto della Lurisia, ma cerco di non bello. Stamattina, ieri sera ho giocato ad Among Us. E mi son divertito. Eh sì, quello che dicevi oggi. Facciamo... Un gioco dove si parla e basta. Parle. Come? Un gioco del silenzio. Scusa. No, è proprio il contrario. No, è proprio il contrario. Però che parla, cioè. Perché che parla, scusa. Un gioco dove parla e basta senza vedere nulla è una merda. A parte... Dungeon & Dragon, ok. Però è molto carino. Sono divertito perché... Cioè, è effettivamente... Strano come gioco... Cioè, è un TTT... Però... Non è tanto per imbecilli. Eh, se uno parla perde, Danny. Nel senso, è un gioco... No, è un gioco... Come TTT, ossia dove c'è la crew... Dove ci sono i tradistori che il loro compito è uccidere tutto il resto della crew senza farsi scoprire così. Unica roba è che appunto non parli mentre succedono i fatti, ma... Quando succede qualcosa, quando uno scopre qualcosa... No, è automatico, Danny. Fa il report... Eh, è un lupus in fabbolo con le mini quest, sì. Vinci facendo perdere. E lì si parla, si dice uno cosa ha visto e poi ci si confronta, io sono di qua... È molto carino perché escono fuori molte cazzate. L'avete visto da Paride ieri sera, bravi. In quel momento erano in live Lidia e Paride. Era Lidia, Paride, Budi, Viking... Ho detto Lidia, tra l'altro, vabbè. Eh... Non so chi c'era, non so se Rose era anche in live, non credo. C'era, no, Rose no. Neanche Nisha, eh, neanche Blor, perché figurati ormai è un pezzetto. Blor, ormai non strema più. Eh, Viking non era in live... Cioè, c'era in live solo dei prude. Come non era in live? Viking sì che era in live. Quando ho guardato io, no. Quando ho guardato io, no, non erano live nessuno dei due. Non so, o non li ho visti. Ma se Viking era in live da prima che... Eh, ma non... Quando io infatti... Infatti ho detto, fammi vedere chi è in live, così guardo più punti di vista. Eh, ho visto solo Paride e Livia, non so. Non l'avrò visto. Anche perché ieri sera, ragazzi, nella mia lista di... Dei... Della gente che seguo, erano tutti live. Tutti, quindi... Capace che mi eri so persi. Sì. Ti avevo promesso che sarei tornato. Eh, Lore! Grazie, Lore! Mannamia! Grazie, Lore! Grazie, Lore! Grazie, Lore! All'indennizzo subito qui... Sì, Vector, esattamente. Durante il gioco non si parla in Among Us. Esatto, e si parla... Ci sono, appunto, le riunioni... Pra virgolette... Pra virgolette. Dobbiamo andare di lì, mi sa. Allora... Dobbiamo andare... No, non è vero, dobbiamo andare... A Nord 15. Chi è stato? Anche sì, forse più vicino. No, che palle l'acqua, però. Molto carino, è molto strategico, anche. Non è come TTT. A parte che TTT noi lo giochiamo... Con le regole nostre che non... Sparano, Marco. Con le regole nostre che non si giocherebbe mai così, TTT. Però... No, aspettate, ragazzi. No, lì è un'altra cosa. Devi giocarlo senza... Anche TTT. No, forse da quella... Pari dei deprulled, sbarbo. Non è di lì, mi sa, ragazzi, eh? Sì, che è qua l'indizio. È lì, è giusto? Ma premi E, scusami. Eh, ma no. A parte che non è E. Come no? Sì che è. No, E lo vedo... Sì, no. Con E lo vedo, ma... Non pensavo fosse giusto con quello... Con l'indizio che avevamo preso prima. Hai qui proprio il ragno, eh. Eh, esatto. Non era l'indizio che avevamo preso, vedi? Stavo dicendo quello io. Project Winter ce l'abbiamo tra l'altro. Sì, vedi che l'altro non abbiamo un tizio nell'altro. Ma è possibile. Sarebbe... Sarebbe carino anche provare Project Winter, perché quello lì invece è più simile a TTT, nel senso che parli anche in game. Ma ci sono proprio delle mini-quest da fare, come su Among Us. Ma che buono, Sack. Beh, magari qualcuno c'ha regole diverse... Akhme? Dov'è sto Struntz? Che dove entrare? Da sotto. Ma no, ma perché le regole noi le giochiamo su TeamSpeak, perché non va giocato su TeamSpeak. Sarebbe da giocare in game. C'è l'auto in game, così anche i traditori hanno una chat proprio dove possono parlarsi. Che schifo ragazzi, vabbè. Cuffetto uso. Quanto gli levo? Anche io gli levo un botto, però che dolore! Porca miseria, devo prendere l'antidoto. Che io. Sono sparato qua vicino? C'è della vita per caso in giro poi dopo, perché mi recupero l'età. Dopo, Marco, faremo un controllino a tappeto. Ma dove sta la stufetus? Sotto lo Struntz. Spacco la faccia. Che schifo, almeno non ti vedo. Aia. Sta facendo malissimo. Aia. Dove cazzo vai! Se gli diamo fuoco di nuovo che c'ho le lanterne qui. No, Rob Warrior perché sarebbe una merda poi in live da vedere. Cosa? Che altro giocare con le giuste regole TTT sarebbe una merda da vedere in live. Perché non sentiresti nessuno con un sacco di tempo. Beh, non è vero in realtà. No, no. Ti assicuro che non è vero. Non lo so, io non ce lo vedrei molto in live. Sarebbe, sarebbe fighissimo solo che funziona di merda la ciocco. La ciocco è la ciocco. La ciocco è la merda. Qua ci avevamo, ci avevamo provato eh. Mi pare di sì ma anni fa però. No, ci avevamo provato anche di recente con Gatto. Però non, tipo Gatto non prendeva proprio il microfono. Ognuno aveva un gatto di problema. Dove, non c'è per curarsi mi sa. Tanto sei full? Eh no, infatti. No, era magari bo' per... Metti che ci sparano. Ecco appunto. Ma che maledirata! No, ma non c'è proprio comunque per curarsi. Dove cazzo saranno? Dovrebbero essere fuori giù? Non lo sto vedendo io, probabilissimo che non sono buono a guardare. Erano vicini eh, abbastanza. No. Dovrebbero essere... Da giù tipo, però non lo so. Quelle puntate. I pari venivano da quella parte là. Io non ho sentito un altro da questa parte. Sì, ma questi qui sono lontanissimi. Sì, ma questi sono lontanissimi. Sono dall'altra parte della mappa. Fammi ritornare più vicino a voi, va. Tanto la lancia. C'è ancora una lancia? Eh sì. No, in realtà oggi è la prima volta che la prendo. No, l'ho già sbloccata comunque, ragazzi. No, semplicemente non l'ho... Perché non l'ho mai filata da quando giochiamo a Dante. Ho detto, vabbè. L'altra volta ci ho fatto anche una bella kill. Voglio uccidere questo qui. Così, per giubilio. Fortissima. Sembra tutto calmo. Eh, non lo so, Tails. Questa qui in realtà è molto forte, ma da vicino. Perché da lontano sei completamente inutile al fight. A meno che non... Cioè, sì. Ti porti la pistola, come sempre. Però la pistola fa il danno che fa. Da vicino è molto buona, perché hai il dardo esplosivo e in più hai il danno altissimo. Da quale direzione? Ah, è qui. Oh, e dimmelo. Ah, ok. Ok. Colpito. Là. Le foglie. Se ne sono altri, non lo so. È ancora là dietro, eh. Eh, prendiamo la tra... La tracchia, prendiamo. Andate voi, andate a prenderla. Andiamo a nord. Che schifo. Era solo questo. Eh, ma infatti sono molto belle queste armi strane, che vanno usate a modo. Cioè, è difficile... Usarle per bene. Prima io. Potevo prendere tranquillamente per me. Eh, sì, c'è quella persona di là e basta. Andiamo a nord. Gli ho sparato, ma... Non è morto. Il campanaro. Grazie. Sento robe. Ho sparato tantissimo, stanno facendo... Oh, fermo, eh. Eh, con voi da bravo. Con voi sarò zio di un maschietto e femminuccia. Gemellis? Ma chi l'ha scritto? Ah, eccolo lì, Felix. Grande, Felix. Auguroni. Moro, fammeli sdraiare. Ma stai tirando i poltelli. Sono un ninja. Tanti auguri, Felix. Che gioco è? Questo gioco è Ant Showdown. Trocca di una puttana. Eh. Basta leggere le cose scritte sotto in live. Sapete? Ogni tanto ci sono scritte quelle cose chiamate... Eh, non mi ricordo i nomi, Luke, purtroppo. Non ricordo bene i nomi delle armi. Non li hanno assoluti. Ah, stronzo! Mi ha ignorato completamente... Ahia! Aspetterò io, Marco, scusami. Eh, lo so che di tu. Che emorragia incredibile. Quanti cazzo sono? Ehm, ok, che c'è. Quello là dietro si sta avvicinando. Porca di una puttana. Sto morendo! Eh, bavattina, che ti devo fare io? Eh, dovete salvarmi l'anno. Non potevi dire che c'avevi un cagnolino. Eh, io sto morendo, non è che muoio a caso. Eh, ho capito, dimmelo quello stesso. Vediamo. Dove? A Norde? No, non saranno gemelli, ma sarà... Ah, infatti, perché mi sembrava che saranno... Saranno otto mesi, vuol dire che a un mese, come fai sapere che sono gemelli già e maschi e femmine. E' un po' presto. Magari che sono gemelli, sì, ma che siano maschi e femmine mi sembra un po' presto. Ogni tanto siamo un po' arroganti con le risposte in chat, ma ci fate incazzare. Eh. Cancella. Imparate a vivere, imparate piuttosto, no? Se imparate a vivere, avete meno problemi voi e ne create meno agli altri. Vedi. Eh, io non c'ho più i secondi. Eh, va, fangulo, va. Eh, 40 minuti, Pier. Cosa urla, come? Cosa urla? Cosa vuole Arcadia? Anche bisogna dire cacate, ma siete pazzi. Non imparo, ma vi sparo io. Amici, finalmente una cosa decente in questa live. La borraccia è diversa, vedo. La mia? Eh sì, la mia non funziona, al contrario. Solo ogni tanto. La fortuna sempre, invece. Mi piacciono gli uomini. Eh, vabbè, non funzionano tanto bene. Allora, qua abbiamo... Ah, devo prendere di nuovo l'antidoto. Eh, non la ridi. Eh, mi hai fatto ridere. Eh, sono simpatico, Marco. Se io... Prendessi un'altra pistola che non è questa, perché questa mi fa cacare. Allora, diceva Luke la Dolch. La Dolch è quella che spara... Quella dei tedeschi. È forte, ma costa un botto. Ne avevo una gratis. La board name con il caricatore stesso. Grazie Luke per il consiglio. Ah no, aspetta, devo prendere i... Credo sia la più forte, solo che... Costa un botto. Eh, giustamente. Eh, potenziamenti, sì, infatti. Invece, aspetta eh... Anche come fucile... Voglio label adesso. Tiripippone... Potenziamoni... Eccomi qua. Voglio quello per curarmi più alla svelta. Quello per sparare a raffica... Come... Mi sarà un cazzo quello per sparare a raffica. Niente, ormai l'ho preso, sono scemo. Percuperò della stamina che inizia prima. Che bello che sei Moro. Grazie Marco. Spero sia un buon consiglio Marco. Sulla teoria vado forte. Ammirare che faccio schifo. Perfetto. Io invece faccio il contrario. Più o meno. È giusto, è giusto quello che hai detto. Era un'arma che avevo provato un paio di volte quando me l'avevo trovata in qualche personaggio preimpostato e me l'avevo trovato molto bene. Perché è veloce, comunque fa abbastanza danno. Mi se non sbaglio, ha anche abbastanza colpi nel caricatore. Quindi comunque sia, non è una rottura che devi stare a ricaricarlo in 5 secondi. Ma che c'ha? Cosa ciucci? Non dire niente se sono spoiler gli Ezra, per favore. No. E subito, ma poi te cosa stai facendo? Sto aspettando che carichi le cose. Ho capito, non farti gli affari tuoi. Già che non ti va un cazzo il pc per forza. No, ma leggo cose di internet e videogiochi. Se poi tu non puoi sapere nulla. Ma se mentre giochi, mentre carica, sei sul browser a cercare notizie, poi è un problema. Gli Ezra è esprit da vecchio, come? Ma che esprit avete visto voi? No. Cosa è? Ma io quei commenti proprio li chiamano completamente perché non so. Eh, Tails. Tails, l'abbiamo... Mi parlavamo prima. Ci hanno già parlato all'inizio della Lifetales. Ah, il personaggio, dice. Infatti non capivo di come. Anche io mi tengo aggiornato, però non lo faccio durante la live. Era quello. Soprattutto se il pc non me lo permette, gli Ezra. No, sì, adesso lo permette. Perché ormai ha caricato mille volte e carica normalmente adesso. Come va il primo caricamento risolto? Non sfidarlo, non sfidarlo. Sì, ci ha caricato. Un attimo. Eh no. Eh vedi. Però l'ho scaricato. Luke dice che mira bene gli Ezra. Dice di confermare anche a te. Ma cagato di schifo. Come miri bene. No, fai schifo. Fammi vedere dove dobbiamo andare. Tanto è sempre in fondo, a destra, eh vedi. Anche a sinistra, però a destra è più vicino. Piriri. Pistols. Durante la conferenza mi mangio un gelato. Io no. Io non ce li ho. O forse li ha presi oggi mio padre. Lo devo vedere. Guarda che bella ciminiera ragazzi. Ma che schifo che faccio. Mi drogo subito. Qua io non c'ho un cazzo di proiettili. Con queste armi qua. Ecco la pistola. Dieci colpi c'ha di caricatore. Sono comunque abbastanza. Ma perchè l'ho sciotta? Ma lì c'è un ciccion. Bestie. E' altrimenti vedi più. Comunque... Vabbè, puoi mangiare anche oggi. C'è già un gelato. Ma non si prende questo ragazzi. Ah ecco. Comunque ragazzi. Cioè non so se ho risolto... Ho tolto l'overclock al processore. Non so se ho risolto... Cioè se era quello il problema che mi dava. Però in realtà avevo l'overclockato da un bel pezzettino. Dobbiamo andare a sinistra. Provo? Perché ho notato che... Con l'overclock... La CPU mi saliva a 80 gradi. In stress. La presenza mi arriva a 71-72. Ma tu hai il dissipatore quello... Quello... Non l'ho cambiato. Ho messo quello ad aria. Ah ok. No perché si. Non saprei come toccarlo. Ma l'ho fatto anch'io. Quello liquido e... Perché tu quando ve lo spedisci la tastacchiscono la scheda... La scheda video. Ma neanche... Probabilmente te lo imbottisco... No, te lo imbottisco col polistirolo. Per prenderla ferma. Ah ok. Va bene. Beh, poi do una fortuna ovviamente. Perché non saprei dove metterla. No, facciamo. Tanto per una CPU non sono così tanti. Beh, insomma. No, regalo. Non c'è solo se scarica. Se no perdi colpi. Grazie. Me lo dovrò ricordare. Perché sarò sicuramente lì a fare i movimenti. Alle 21 ci fermiamo. Mi verrà sicuramente da ricaricare. Sbaglierò. Guarda, son sicuro. No, cazzo. Memoria muscolare del cacchio. Qui c'avevo problemi di... Uccidete le schife. No, ma andiamo... Passando di là. C'è l'indizio anche di là. Il 7700K che quando è uscito aveva problemi di surriscaldamento. E lo sapevo che era infame tu. Te lo stronzo dietro. Fallo esplodere. Eh, ma non era quello... Oddio. Si è messo un quarto d'ora. Marco minchia. Che palle. C'era il medico. Non è già esploso questo. No. Adesso è esploso. Eh no, è l'altro mi sa. Quello con la torcia che era esploso. Ancora il budrigum. Questa è una trappola. La mettiamo qua. E' la sopra l'indizio. Se ne hanno anche di qua eh. Basta bruciar. Aspetta. E' bruciato quello con il filo spinato. Si. Si può scavancare. Ah merda ma c'è il gigante. Aspetta. Il gigante di ferro. Ehm. Dai, 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 dai. L'hai ucciso praticamente. Ma ti ho colpito? Eh, mi hai tolto metà vita. Perché ho mirato per terra. Quindi. Aia. No. Ah no, ma guarda che c'erano anche le... No, ma non tolgono tanto. T'avrò colpito io in qualche modo. Ah, puoi prendere anche quello là l'indizio. Possiamo prenderli tutti e due. Eh, buon sarà secondo me Ironworks. Works, work, 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 work. Marco prendi l'indizio però. Dov'è? Ah, è qua da me. Ok, che stavo scappando. Mica mi sono reso conto dove cacchio ero. Mi hanno tirato un Dic Candelotto. No, sono io. Arca miseria. Che paio istrica. Bravo. Facciamo delle munizioni, se vi servo. Invece è dall'altra parte. Devo andare a Nord-Ovest. A Nord-Est? Nord-Ovest. No, a Nord-Ovest, è vero. Andiamo. Aspettate che prendo fuoco. Ma c'erano due di queste cose. Ma che vuole? Che dolore mi sono fatto. Bestiato. A Nord-Ovest, mi sasparano, eh. Ma io l'ho sentito vicino, eh. No, non era così vicino. Andiamo qua in diretta a live di sole, sì. Meno male che ho messo la cosa che se salto prendo meno danni. Guardi di sole, ma non è selezionata. Non è selezionata per abbonarmi. Eh, devi aspettare. Se l'hai fatto adesso... Aspetta. Aspetta. Devi aspettare un pochino. Ogni tanto acciono alla pagina. Sei troppo veloce, eh. Devi calmarti, rilassati. Ragiona la pagina ogni tanto e vedi quando compare... Ma Caesar Zeppola... Vai la Como e il Papu. È una Jojo reference. Eh, Caesar era quello... Zeppeli. È Zeppeli, sì. Era Caesar Zeppeli. Era il primo, mi pare. Mi sembra. Non mi ricordo più già. Visto un mese fa. Ma è pieno di mostri di merda dell'acqua del pazzo voi, però, eh. Mi vado ad incazzare. Vai la Como e il Papu. L'ho fatto incazzare. Moro. Aha! Ti ho fregato. Con la laccia si ha fatto così. Poi, taglia erba, smelta. È fortissimo, Moro. Capito? Però è un attimo che ti stroppano, eh. Allora, c'è un botto di gente qui, ragazzi. Quindi occhio. Amico di Joseph, esatto. Best Jojo, ricordiamo. D'accordo. Eh sì, c'è gente, confermo. L'avete sentito anche voi. Fatevi sentire, mi raccomando. Non corrette. E si sente un sacco, eh. Anche due, di sacco. Non vorrei che ci cesserò fuori da quella finestrella lì. Questa qui. No, in realtà il primo è stato il mio preferito. Che in realtà è quello che odiano tutti, ma è stato il mio preferito. Allora. Giorgio. Giorgio. Ho visto uno passare. C'era uno là sopra. Sto andando sopra io, ragazzi. Intanto con la lancia posso far fuori. Non correte, mi raccomando. E dalla finestra ho visto passare cose. La porta è aperta, eh. Da questa parte no, invece. C'è uno sotto. Non l'ho colpito, ragazzi. C'è uno qua. C'è uno qua. Sta salendo, eh, ragazzi. Qua dietro. Mortacci. Stavano per... Ah, già. Ma che è? È vero. Ecco. E non vedo niente, moro. Qualcuno laggiù, là dietro. Allora, ci deve essere qualcuno anche qua dentro, eh. Io vorrei tirare su gli Azer, ma... E basta, sto mosso di merda. E levati. No, l'ho visto mentre mi sparava. Di fronte a me, proprio. Era nel ponticello. Sopra? Era... Sì, più o meno. Lì, lì. Esatto. Mi sa che l'hai buttato giù. Vieni a tirare su, che son dietro tanto. Mi sa che qualcuno ti sta seguendo. Era uno stronzo, Marco. Vado a camperargli un attimo il... Cadaver. Ehi? Aia! C'è uno, Marco, eh. Dove? Sempre lì dov'era lui. Che palla. Non gli ho fatto niente. Moro? Mi stava mirando. Se lo colpite una volta, Carlo. C'erano la pistola, sì. Volevo farlo esplodere, ma... Era un altro, un altro. Ah, io son caduto. Dove era, Moro? È sotto. Da che parte? Le larve. E se dietro il... Dietro lì dov'era lui. Per un attimo, io, eh. Sì, sarà anche quello sopra, eh. Occhio che erano due diverse. Infame, vai via. E che cazzo, allora... Tutti vivi dovete essere qui. Eh, mi hanno sparato. È sotto. Ho preso la lanterna e è andato a fuoco. Ok, uno l'ha tirato giù. No, le larve di merda e vattene via. Non è possibile. No, mi segue il ciccione. Mi segue. Moro, aspetta. Ora, vieni a tirarmi su se riesci. Eh, sì. Infatti, ci sto pensando adesso. È lì, sono lì. Mark 2, l'ha tirato su. Marco, stai attento? Eh, no. Eh, no. Non potevo fare veramente nulla. Sto attento. Sto a fare veramente un cazzo. Ma li sono trovati davanti. Non credo di averli neanche colpiti, tra l'altro. Perché non mi ha dato list marker dopo. Subito dietro e curati il laser. Eh, non ho bisogno di curare. Osteria. Eh, ho tre tacche, io. Eh, io ne avrò due, mi so. Eh, sono proprio... Dove c'è il mio cadavere... Eh, vedi? Li senti? Che stanno uccidendo gente. Non so chi è quello sul tetto. Sono io, sono io. Eh, sono lì sotto. Eccoli. Insieme. Aia. Gemelli Merkel. Tiragli qualcosa, un candelotto di dinamite, boh. Dove stai andando? Uno l'ha colpito. Perché li hai tirati di là? Pensavo andassero lì. Ma io lo sprazzo però. Perché hai preso il legno. Ma bacanculo il legno. Lui ci aveva... Ma fatto edishot, l'infame di merda. Ezzar, lo vedi? E' tuo. E' un altro. E' forse un altro ancora. Hai mobilità lì, più che altro. Occio... Ha visto, mi sa, eh? Hai più avanti, perché non hai mobilità... Cioè, non hai copertura. Buona. Buona. Ok, buona terra. E questo dove era? Ma questo correva. Scusami. Ma dove era? No, non era. E' quello che ha ucciso anche a me, il signor Luigi. E' quello che ha ucciso anche a me. Attraverso il buro mi ha ucciso. Era il signor Luigi. Eh sì, c'aveva la lampa di legno, avevi. Amici, qua sono i 54. Che famo? O famo strano? Eh sì, no, in caso diamo la linea a gatto, poi ci vediamo subito dopo, ragazzi. Amici, mi raccomando, alle 22 venite qua, che partiamo con la... Prima dalle 22. Sì, prima. Prima, un po' prima. Sì, esatto, come dicevamo prima. Come dicevamo prima, partiremo 10 minuti e un quarto d'ora prima. Quindi arriviamo un po' prima al gatto, va bene così. Alle 21.45, on point, ragazzi, eh? Ciao, belli. Ciao, bellezze.